Massimo Sertori, Assessore alla Montagna, Piccoli Comuni e Denti Locali, buongiorno. Lei è stato protagonista per la regionalizzazione delle concessioni idroelettriche, quali saranno i vantaggi per il cittadino per questa iniziativa e per questa regionalizzazione? Li cominciamo già a toccare con mano, soprattutto nei territori dove queste grandi centrali idroelettriche sono presenti, perché in questi territori a partire dalla provincia di Sondrio, ma anche nella Bergamasca, nel Bresciano, imparzialmente anche nella provincia di Como, ci sono dei canoni che prima non c'erano e che vengono lasciati proprio al territorio, ma anche una parte dell'energia che viene prodotta da questi grandi concessionari idroelettrici viene devoluta gratuitamente alla regione e quindi la regione poi la demanda ai territori dove ci sono le grandi centrali idroelettriche. Per fare un esempio, in questi territori sono già due anni che le case di riposo non pagano l'energia perché viene monetizzata e pagata grazie appunto alla legge statale che abbiamo fatto nel 2018, regionale che abbiamo fatto poi successivamente. Quindi si intravedono già i primi benefici importanti, ma ovviamente poi quando ci saranno il rinnovo delle concessioni idroelettriche i benefici su questi territori saranno assolutamente ancora maggiori. Le Olimpiadi, Milano-Cortina, i vantaggi che porteranno queste Olimpiadi anche per le nostre montagne e anche e soprattutto per le infrastrutture come treni, come strade, riuscirà la regione a completare prima dell'inizio delle Olimpiadi queste nuove infrastrutture? Cominciamo col dire che le Olimpiadi sono un evento assolutamente straordinario, è l'evento più importante dei prossimi dieci anni del Paese Italia. Quindi noi siamo assolutamente orgogliosi di ospitare le Olimpiadi, quindi Milano-Cortina, ma evidentemente territori interessati come l'Alta Valtellina, Bormio, Livigno, ma i benefici saranno sicuramente per tutto il territorio della Lombardia e in particolare anche su questa fascia che io definisco Milano-Lario-Valtellina. Le Olimpiadi sono uno straordinario acceleratore rispetto a opere che comunque avremmo dovuto fare, sto pensando al miglioramento delle infrastrutture sia stradali che ferroviarie, sono opere che aspettavamo da decenni e che grazie alla scusa, lasciatemi dire, delle Olimpiadi adesso siamo riusciti a finanziare, certo c'è da correre, c'è molto da fare, sappiamo che da quando vengono individuate le risorse, vengono destinate le risorse a quando queste si traducono in un'opera, in un lavoro, in Italia passano degli anni ed è questo uno dei motivi per i quali noi come Regione Lombardia abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse un commissario sulle Olimpiadi che quindi ha qualche potere in più e quindi riesce a snellire le fasi burocratiche, bisogna lavorare tutti insieme come stiamo facendo, l'appuntamento nel 2026 non è derogabile, ma i benefici delle Olimpiadi non sono solo quelli infrastrutturali, sono ovviamente anche quelli di un'immagine portata in tutto il mondo, pensiamo che l'evento iniziale su Milano sarà seguito da 2 miliardi di persone, quindi è chiaro che noi porteremo i territori della Lombardia, le montagne della Lombardia nel mondo e con esso anche tutti i prodotti, tutte le eccellenze che questi territori sanno creare e fare, quindi insomma un'occasione assolutamente straordinaria che ha la necessità del lavoro insieme di tutte le istituzioni, di tutti gli enti, la Regione Lombardia ha assunto un ruolo fondamentale intanto per le Olimpiadi, perché lo ricordo se non ci fosse stato il Presidente Fontana e il Presidente Zaia che al momento del dossier hanno dato la propria disponibilità nel mettere le fiduzioni, oggi non saremmo qui a parlare di Olimpiadi e con esso neanche tutti i benefici che queste possono comportare, quindi bene abbiamo ottenuto questo importante evento, si sono stati importanti finanziamenti sia statali che regionali per le infrastrutture e non solo, adesso siamo concentrati nella loro realizzazione, per poterlo fare bisogna lavorare tutti insieme, quindi comuni, province, regione con un forte coordinamento e lo Stato centrale con i commissari. Lei è anche Presidente della Regio Insubrica, una Euro Regione, comunità che raccoglie diverse province tra la Lombardia e anche il canton di Cino, qual è la forza incisiva di questa istituzione e come va il rapporto anche con i cugini svizzeri? Questa è un'istituzione molto importante perché mette a fattore comune quelle che sono le problematiche della vicina Svizzera e dei territori di confine, i singoli componenti della Regio Insubrica possono poi intervenire a livello amministrativo, io sono il Presidente di turno ma ovviamente sono anche Assessore regionale per cui se ci sono delle segnalazioni che riguardano la Regione Lombardia io posso intervenire dal punto di vista amministrativo, ma il ruolo della Regio Insubrica è fondamentale perché intanto è un luogo dove ci si scambiano diciamo così le necessità, ma poi è anche un posto dove si può far leva anche di tipo politico istituzionale, faccio un esempio su tutti, è appena stato recentemente confermato l'accordo, il nuovo accordo sui frontalieri che era datato, era del 74 e ovviamente la competenza è stato è stato, quindi Roma Berna, ma il tutto è nato da una lettera che è stata sottoscritta dal Presidente Fontana e il Presidente in questo caso del Canton Ticino, dove era stato ideato diciamo così proposto questo sistema diciamo così a binario, quindi con i frontalieri attuali che vanno fino alla pensione con l'attuale trattamento fiscale, ma per i nuovi frontalieri c'è un trattamento fiscale diversificato, noi questo l'abbiamo scritto dopo un confronto su una lettera, ovviamente non avevamo il potere per poterlo fare, ma poi i governi che sono arrivati successivamente hanno preso spunto da questa lettera e hanno stipulato il nuovo accosto, questo per dire come partendo dal basso, cioè da dove sono realmente i problemi e quindi inalzandoli sopra ai vari livelli amministrativi che possono avere competenze, allora si possono ottenere risultati importanti, comunque il dialogo è sempre un aspetto positivo, anche se si parte da posizioni molto diverse e l'ha reso in sobrica, è un luogo dove c'è un forte dialogo, un forte confronto. Parlando di montagna non possiamo non pensare al dissesto geologico, soprattutto recentemente la frana che ha isolato la Valsassina, difendere la montagna come anche di fronte a queste evenienze che tante volte non si possono assolutamente prevedere, ma credo che si possano prevedere e prevenire lo spopolamento, tanti paesi montani si stanno svuotando, cosa fare per mantenere i giovani, per mantenere le persone all'interno anche dei piccoli paesi? Noi su questo stiamo facendo un lavoro importante, nel senso che noi ad esempio con le aree interne, cosiddette aree interne, peraltro definizione che a me non piace particolarmente, ma sono quelle aree più defilate, più estreme che hanno un gap di servizi, di infrastrutture, perché ovviamente per cercare di mantenere le persone in montagna bisogna produrre, bisogna mettere a disposizione dei servizi e bisogna che ci siano delle condizioni di lavoro, perché poi se non ci sono queste due condizioni essenziali la gente tende ad andare dove trova lavoro e soprattutto dove ci sono i servizi. Per poter far questo bisogna prendere atto che in montagna i servizi costano di più rispetto alla pianura e bisogna anche prendere atto che la montagna è fatta di paesaggi assolutamente straordinari, fantastici, che vanno preservati, però attraverso uno sviluppo che sia sostenibile. Io non sono tra quelli che sostiene che la montagna deve essere il giardino di chi abita in città e quindi non si può toccare nulla, perché noi dobbiamo creare le condizioni di sviluppo, le condizioni di lavoro in modo ovviamente sostenibile e rispettoso rispetto all'ambiente e ai paesaggi straordinari della montagna. Per far questo però bisogna lasciare che a gestire questi territori siano proprio i montanari, coloro i quali questi territori li conoscono bene, non bisogna imporre sempre e comunque delle cose ed è anche il concetto che noi abbiamo espresso attraverso le aree interne. Noi abbiamo finanziato e finanzieremo 14 aree interne dove io e il Presidente Fontana abbiamo fatto un tour, le abbiamo visitate tutte 14, ma la questione inedita non è soltanto il fatto che diamo una disponibilità, una dote di 14 milioni di Euro per ognuna di queste aree interne, ma la cosa importante è che le progettualità vengono definite a partire dal territorio, quindi col coinvolgimento del territorio non c'è un'imposizione, non è la Regione Lombardia che dice bisogna fare questo, ma eventualmente la Regione Lombardia affianca gli enti locali che sono costituiti da comuni, spesso piccoli comuni, da comunità montane e sono loro che individuano quelle che sono le esigenze, le priorità e noi li affianchiamo per cercare di spendere al meglio questa dotazione di risorse. Ovviamente questo è un progetto, un'agenda importante, fondamentale, ma non è sufficiente e quindi bisogna lavorare in questa direzione. Da questo punto di vista devo dire che il fatto stesso che in questa legislatura è stato istituito un assessorato alla montagna, ci ha consentito di essere molto più vicini a questi territori e mi fa molto piacere che nel tour che abbiamo fatto, questo ci è stato testimoniato da molti degli attori e delle persone che abbiamo incontrato su questi territori. Balassina, Triangolo Lariano, da dove noi veniamo? Recentemente la Regione ha stanziato 5 milioni per il rilancio turistico, che cosa verrà realizzato con questi 5 milioni? Noi abbiamo stanziato questi 5 milioni, abbiamo stanziato anche altre risorse, tra l'altro noi e la Regione Lombardia in particolare è l'unica che ha mantenuto le comunità montane, noi nel Piano Lombardia, che è un piano da 4 miliardi e mezzo che abbiamo costruito proprio in piena pandemia, quindi da questo punto di vista c'è stata una forte lungimiranza da parte del Presidente, abbiamo dedicato, destinato a questi territori, dalle ingenti risorse, sia sul dissesto idrogeologico, perché il Piano Lombardia ha destinato oltre 120 milioni di Euro per il dissesto idrogeologico, ma anche alle stesse comunità montane, noi abbiamo finanziato le comunità montane con 35 milioni di Euro all'anno e oramai questo è il terzo anno che li stiamo finanziando e da lì partono poi delle progettualità, è evidente che territori come quello di cui stiamo discutendo adesso, sono territori che hanno una propria vocazione turistica che deve essere esaltata, nel rispetto però di quello che sono le caratteristiche, il paesaggio, l'ambiente che troviamo, quindi bisogna cercare di esaltare quelle che sono le qualità, noi come Regione Lombardia cerchiamo di dare dei contributi, delle risorse, cerchiamo anche di affiancare gli enti locali su quelle che sono le progettualità, ma lo facciamo in un concetto come dicevo prima, come spiegavo sulle aree interne, che per noi è autonomista e federalista, quindi noi non vogliamo imporre nulla, eventualmente diciamo alle comunità locali che bisogna cercare di esaltare quelle che sono le qualità e anche il triangolo dell'aria non ne ha molte, rispetto a quelle che magari sono le negatività, quindi il distresso idrogeologico lo finanziamo da una parte e dall'altra parte cerchiamo di mantenere le comunità sui territori perché è solo con la presenza e la manutenzione ordinaria che si possono evitare problemi di questa natura, dopodiché con dei finanziamenti su investimenti cerchiamo di migliorare le condizioni e di esaltare le qualità di ogni singolo territorio, compreso quello di cui stiamo parlando. Un bilancio positivo in questi 5 anni di lavoro come assessore? Direi assolutamente sì, positivo, dopodiché si può sempre fare di più e meglio, questo è fuori discussione, però certamente questa legislatura ha avuto un'attenzione particolare alla montagna, ai piccoli comuni che spesso caratterizzano la montagna e alle comunità che sono presenti nelle montagne e questo è quello che abbiamo cercato di fare, io credo che siamo nella strada giusta, certo queste progettualità devono andare avanti nel tempo, non devono essere a spot e quindi bisogna continuare con questa politica che noi abbiamo tracciato. E per il futuro, gli obiettivi? Il futuro e gli obiettivi sono appunto quelli di intanto noi abbiamo questo appuntamento che non è banale del 2026 delle Olimpiadi con tutto quello che comporta, ovviamente cercheremo di intercettare tutte le questioni positive che può generare una situazione di questo genere, un evento di questo genere per trasmettere delle positività su tutto il territorio e quindi andremo avanti in questa direzione, la direzione di preservare, di mantenere questi territori che sono assolutamente straordinari, mi riferisco ai territori della montagna, ma ripeto e ribadisco con delle politiche che cercano di fare in modo che le persone che ci abitano nella montagna ci possano abitare, lavorando e abitare in modo assolutamente dignitoso, avendo dei servizi essenziali come è giusto che sia da parte di tutti. Uno dei progetti strategici che stiamo portando avanti come Regione Lombardia, spesso viene detto questa Smartland per fare in modo che tutti i territori abbiano la stessa possibilità, le stesse possibilità anche di lavoro su tutto il territorio della Lombardia, la Lombardia è un territorio di 11 milioni di abitanti e il 40% del territorio della regione Lombardia si trova in montagna, noi vorremmo creare le stesse condizioni di sviluppo, di lavoro che ci sono in pianura e nelle città anche in montagna, stiamo lavorando in questa direzione. Grazie a voi, grazie a voi.